Giulia Salemi lo ha annunciato in anteprima, Gaia Zorzi e Fariba al GFVIP Anticipazioni Grande Fratello Vip7, Giulia Salemi non ha dubbi, mia madre Fariba Tearani ci sarà Lunedì scorso è finito il GFVIP con la vittoria un po' inaspettata di Jessica Selassie Alfonso Signorini ha già annunciato che a settembre ci sarà la nuova edizione del Grande Fratello Vip E ovviamente sono già circolati i primi rumor sul cast E proprio a tal proposito Giulia Salemi ha dato un'anticipazione sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip Cosa ha detto? Come riportato dal portale bixi.it, Giulia Salemi ha rivelato al GFVIP Partiche Sua mamma Fariba Tearani pare sia in lizza per entrare nel cast della prossima edizione del reality Si ricorda che la mamma della popolare influencer ha già partecipato a diversi reality in passato Tra i quali la scorsa edizione dell'Isola dei famosi Giulia Salemi sulla prossima edizione del GFVIP, Fariba Tearani e Gaia Zorzi parteciperanno come unica concorrente Giulia Salemi, sempre come riportato dal portale bixi.it, ha poi dichiarato che sua mamma Fariba Tearani dovrebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip insieme a Gaia Zorzi Concorrente unico Gaia Zorzi e Fariba Tearani Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei Mi pare essere davvero convinta che sarà nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà a settembre Mia mamma ragazzi è convinta di farlo. Fariba Tearani al GFVIP? Chissà, intanto nonostante manchino ancora diversi mesi al ritorno del reality su canale 5 like nei telespettatori è già alle stelle